Gianni, vieni a picchiare al contrario poi, al contrario e se no si muovono devi fare l'asse d'equilibrio adesso riempiamo aspetta insomma che ti faccia pesa dai che ce ne abbiamo un'altra, bravo bravo questa deve andare giù tutta anche di qua dai dai picchia picchia giù vedi che fa cazzarola vanno le banche in faccia un po' di la Marco picchia giù questo buona scappa qui ce n'è ancora una l'ambretta anche questi da l'inizio no no da l'inizio dai no ma solo per domenica dopo smontiamo tutto dopo smontiamo via domenica finita di ripudiamo via ma per una parte c'è una cagata diciamo che ci prenderà più la sicuro ma 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 ma